Inizia il processo ad alcuni degli esponenti del movimento per così dire spontaneo delle Carriole. Sciolto come neve al sole in poco più di un paio di mesi, i suoi cinque componenti si sono stati portati alla sbarra con l'accusa di violazioni di zona rossa e per aver manifestato, nonostante la mancata autorizzazione della questura. A finire la sbarra sotto processo alcuni dei componenti, rispettivamente Ezio Bianchi, Alessandro Tettamanti, Antonio Di Giandomenico, Anna Pacifico Colasacco e Marco Sebastiani. Questa mattina la parola è passata al titolare dell'inchiesta, Simonetta Ciccarelli, che ha fatto deporre come testimone il capo della Digost, la dottoressa Giuseppina Terenzi, che all'epoca dei fatti denunciò le cinque persone. Il capo della Digost ha spiegato al giudice come si sono svolti i fatti e su come, in alcune occasioni, fosse intervenuto anche il primo cittadino ed il vescovo ausiliare Giovanni D'Ercole, che si mise anche a spalare le macerie insieme ai cittadini. Al termine della sua deposizione, il giudice unico Giuseppe Greco ha aggiornato l'udienza al 27 settembre prossimo, giorno nel quale in aula sfileranno i testimoni della difesa.